Musica Buonasera e benvenuti al TG2000. Una seconda ondata di coronavirus non è certa, ma è possibile, dice il Ministro della Salute. I dati di oggi intanto segnalano un incremento dei contagi ed è polemica sul numero dei tamponi. Sentiamo Massimiliano Niccoli. Salgono di nuovo i contagi, trascinati ancora una volta dal dato Lombardo. 379 nuovi casi, di cui 252 in Lombardia, 1399 le persone guarite e 53 i decessi. Nessun morto in 10 regioni e per la prima volta in Emilia-Romagna, segnale importante, dice il suo presidente Stefano Bonaccini. Ma sullo sfondo resta la paura per una seconda ondata. Una seconda ondata o una recrudescenza non è certa, ma è possibile. L'epidemia non è finita, dice Speranza. Ci sono ancora focolai di trasmissione e il virus continua a circolare. Il focolaio che preoccupa di più è quello partito dal San Raffaele la Pisana, la clinica di Roma che conta già 77 casi. Indispensabile dunque tenere sempre alto il numero dei tamponi che oggi sono stati oggetto di nuove polemiche. Nelle ultime due settimane, spiega la Fondazione Gimbe, è diminuito considerevolmente il numero dei test eseguiti dalle regioni. Un meno 12,6% con picchi in Lombardia, Campania e Veneto, dove il calo è stato superiore ai 2000 tamponi. Un dato fortemente contestato da Zaia che ha definito incomprensibile la modalità di calcolo. Eppure, polemiche a parte, i controlli sono necessari proprio per fronteggiare un eventuale ritorno del virus. Dobbiamo farci trovare pronti, afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Se dovesse arrivare, aggiunge, non avrà comunque le stesse dimensioni e la stessa portata. E a proposito di Lombardia, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, punta il dito contro la regione che avrebbe secretato i dati dei morti per il coronavirus nelle province. Intanto, nell'inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata zona rossa nella Val Seriana, domani mattina a Palazzo Chigi, i PM ascolteranno il Premier Conte come persona informata dei fatti. Sentiamo Marco Bergamaschi. Il 15 giugno partirà una campagna di 50.000 test sierologici gratuiti per i cittadini di Bergamo. Al via anche uno screening in bassa Val Seriana, tra le zone della Bergamasca, più duramente colpite dal virus in termini di contagio e vittime. Ma è scontro tra il sindaco di Bergamo Gori e la regione Lombardia sul numero delle morti. Il primo sostiene che da quando il capoluogo aerobico ha segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, sono stati secretati i dati per provincia. La diffusione dei dati verso autorità sanitarie, mezze di informazione e la replica della regione non è cambiata e continua ad essere la stessa. Intanto in uno dei filoni dell'indagine della procura di Bergamo, quello sulla mancata zona rossa a Nembra, Alzano e Val Seriana, domani a Roma i magistrati ascolteranno il Premier Conte e i ministri della Salute, Speranza e dell'interno Lamorgese. Nell'inchiesta già sentiti sempre come persone informate dei fatti, a fine maggio il governatore Lombardo Fontana e l'assessore regionale a Welfare Gallera, mentre ieri è stato ascoltato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Berlusaferro e a Bergamo continua la protesta dei parenti delle vittime. Vogliamo appunto cercare di capire cosa sia successo, trovare una verità e giustizia soprattutto per chi non c'è più e soprattutto per evitare che ciò si ripeti in futuro. Migliora la situazione dei contagi in Europa, ma non nel resto del mondo. Negli Stati Uniti, il paese più colpito dalla pandemia, le persone infettate dal virus, superano i 2 milioni, oltre 113 mila. I decessi e il coronavirus continuano a correre anche altrove. Tutti gli aggiornamenti con Cesare Cavoni. L'emergenza coronavirus nel mondo sta peggiorando, anche se in Europa è migliorata, dirlo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nelle ultime due settimane sono stati registrati 100.000 nuovi casi di Covid in un giorno. Il 75% dei contagi, sottolina l'OMS, sono stati segnalati in 10 paesi, nelle Americhe e nel sud-est asiatico. E a questo quadro si aggiunge l'allarme del Fondo Monetario Internazionale che avverte come la crisi causata dalla pandemia di coronavirus potrebbe portare a 100 milioni di nuovi poveri. In questo trinste bilancio, il Brasile occupa un posto di rilievo nella classifica dei contagi. Sono infatti 1.274 le vittime di Covid registrate solo nelle ultime 24 ore, mentre negli Stati Uniti il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus ha superato la soglia dei 2 milioni. La Russia è il terzo paese al mondo per contagi. Le autorità sanitarie hanno confermato di aver superato la soglia dei 500.000 infetti confermati. Situazione critica anche nel Regno Unito, con 286 morti nelle ultime 24 ore. Contagi in aumento anche in India, con Mumbai, capitale di Maharashtra, la città più colpita. I timori di una seconda possibile ondata di coronavirus e le previsioni sui tassi di interesse della Federal Reserve americana gelano le borse europee che accusano oggi pesanti perdite con Milano che chiude almeno 4,8%. A soffrire maggiormente i titoli bancari e quelli del settore auto che stando ai dati Istat sulla produzione industriale di aprile 2020 ha visto in Italia una caduta senza precedenti. In generale la produzione dell'industria italiana è crollata del 42,5% rispetto allo stesso mese del 2019. L'automobile ha fatto segnare un drammatico meno 98%. In via di definizione la bozza sulle riaperture della fase 3. Da lunedì via libera, calcetto e sport di contatto. Riapriranno anche le aree giochi per i bimbi, sale scommesse, centri benessere. Per sale da balo, discoteche e congressi bisognerà però ancora aspettare. I dettagli con Clara Iatosti. Tornerà il calcetto con gli amici. Dal 15 giugno dovrebbe essere nuovamente possibile. Via libera si legge nell'ultimo decreto Conte anche al beach volley, alla boxe e alla pallacanestro. Insomma, gli sport di contatto nelle regioni e province autonome dove la situazione epidemiologica lo consenta. Da lunedì si apprende dal testo visionato dall'ADN Cronos buone notizie per bambini, genitori, nonni e babysitter. sarà consentito l'accesso a dare giochi all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Dietro front per le discoteche restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche o locali assimilati all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. Riaprono invece, forse non se ne sentiva l'urgenza, sale scommesse e bingo assieme alle sale giochi, ai centri benessere e alle terme. Ancora vietati i viaggi all'estero fino al 30 giugno ad eccezione dei paesi dell'Unione Europea e per motivi di lavoro, salute o necessità. Assegno unico per ogni figlio fino all'età di 18 anni. Questo è uno dei punti più qualificanti e attesi del Family Act e la legge sulla famiglia approvata oggi nel Consiglio dei Ministri. Chi ce ne parla, Augusto Cantel, mi sentiamo. Solo un primo passo ma comunque un inizio via libera del governo al cosiddetto Family Act un pacchetto di misure a sostegno dei nuclei familiari. Il pezzo forte del provvedimento riguarda l'assegno universale destinato a chiunque abbia dei figli fino a 18 anni di età. L'assegno universale verrebbe distribuito mensilmente in modo diretto oppure sotto forma di credito particolare attenzione alle famiglie con figli disabili. Resta invece il nodo dei tempi. Il governo ha scelto la strada più lunga, quella del disegno di legge delega invece di quella più veloce del decreto legge. Mi verrà meglio un decreto legge vista la difficoltà delle famiglie? Beh immagino che appena approvata la delega dobbiamo correre subito a fare un decreto legge attuativo dell'assegno unico. Ecco non può essere rimandato molto a lungo vista la difficoltà, certamente. Sì dovremmo fare se no tra oggi e domani difficile quindi l'inizio settimana prossima. Tema quello della famiglia insieme al lavoro al centro degli stati generali dell'economia che inizieranno sabato a Villa Panfili. Giornata dedicata agli interventi in videoconferenza della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e della BCE Christine Lagarde. In presenza a Villa Panfili invece il Presidente dell'Europarlamento Sassoli e il Commissario Economico Gentiloni. Ripartirà a settembre la scuola ma tante sono le incertezze ed è drammatica la situazione per quelle paritarie. Molte potrebbero non riaprire per mancanza di fondi. Alcune hanno già chiuso. Nicola Ferrante. Cinque scuole hanno già chiuso e una sesta ad Avezzano riuscirà forse a strappare ancora un anno scolastico ma poi sicuramente chiuderà. È desolante il quadro delle paritarie italiane che non apriranno più a settembre. All'Ecco addio al nido gestito dai padri somaschi a Milano chiudono un istituto comprensivo di infanzia e primaria. Intanto per il prossimo anno scolastico abbiamo deciso con grande dolore la chiusura della nostra scuola Mater Divina Grazie di Milano e così un pezzo di storia, una piccola storia si conclude. Da nord a sud il grido alle istituzioni di corrispondere ai fondi necessari alla ripartenza complicata da igienizzanti, presidi sanitari individuali rette più difficili da pagare per le famiglie già messe a dura prova. Il 30% così delle paritarie sparirà. A Sabaudia la materna Duca d'Aosta un'istituzione, a Ferentino niente Campanella la primaria delle Francescane. In Sicilia dopo 90 anni si spegne l'attività del liceo scientifico dei Salesiani. È una scelta vissuta con grande dispiacere e molto sofferta perché in questi 90 anni della nostra presenza qui a Messina abbiamo educato migliaia di giovani attraverso la cultura ad una educazione integrale. Torniamo a parlare di una nuova drammatica tragedia del mare avvenuta l'altro ieri a largo della Tunisia. Finora sarebbero stati recuperati i corpi senza vita di 50 persone tra cui molte donne e bambini. Lo rendono noto fonti locali precisando che i corpi rinvenuti appartengono per la maggior parte a persone provenienti da vari paesi dell'Africa sub-sahariana. Il barcone con 53 migranti è naufragato lunedì scorso nello specchio di mare a 20 chilometri dalla costa tunisina. Concerti rimandati, palestre chiuse e viaggi annullati per colpa del coronavirus. Continua la polemica sulle modalità di risarcimento. Sentiamo Caterina Dall'Oglio. L'ultimo caso è scoppiato sul concerto di Paul McCartney che in questi giorni avrebbe dovuto tenere due esibizioni in Italia cancellate per il coronavirus e per le quali gli organizzatori hanno offerto i possessori del biglietto il solito voucher per un altro spettacolo anziché il rimborso. Sono intervenuti tutti dall'artista stesso al ministro della cultura Franceschini che ha fatto leva non solo sulla legge ma anche sul buonsenso. Il voucher dovrebbe valere solo per un concerto dello stesso artista e se questo non è possibile lo spettatore deve avere diritto al rimborso. Vedremo come andrà a finire ma il problema non riguarda solo concerti e spettacoli bensì anche il turismo ovvero viaggi e vacanze pagate in anticipo mostre e musei abbonamenti a piscine palestre e altri impianti sportivi. Gli acquirenti denunciano da tempo la situazione ma solo ora il governo comincia a fare le prime aperture caute. Secondo l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori è vero che le norme emergenziali varate dall'esecutivo e approvate dal Parlamento consentono l'utilizzo del voucher ma questi provvedimenti sono in aperto contrasto col diritto europeo che ha valore superiore al diritto italiano. Inoltre per quanto riguarda i viaggi c'è anche una pronuncia dell'antitrust che intima il riallineamento alla normativa europea quindi non solo voucher ma anche rimborsi in denaro. Piscine e palestre poi hanno potuto riaprire rispettando le severe prescressioni di sicurezza dettate dal governo. Anche qui in base ai decreti legge vigenti i gestori possono decidere se rimborsare i clienti per il periodo di chiusura o come avviene quasi sempre offrire un voucher che copre quello stesso periodo e utilizzabile entro un anno. È un inizio di giugno all'insegna dell'instabilità meteorologica situazione che caratterizzerà anche tutto il prossimo fine settimana. Temperature ben al di sotto della media in tutta Italia e piogge e temporali che insisteranno fino a domani in particolare sulle regioni del centro nord fenomeni che potranno risultare localmente anche violenti e accompagnati da grandi nel forte evento specie sull'Emilia Romagna Veneto Liguria Medio Basso Piemonte E non è mai troppo tardi e così a scuola nonostante le distanze le mascherine sono tornati tre alunni da 69 agli 86 anni per conseguire a Bari la licenza media vediamo con Luigi Ferraiolo eravamo sette figli e i miei fratelli più grandi dicevano questa è la più piccola dai papà facciamola continuare no ma vi hanno aiutato i nipoti a studiare? no hanno voluto conseguire la licenza media a pensione inoltrata perché non erano riusciti a ottenerla da ragazzi si chiamano Nicola Bellacicco 86 anni Domenica Nettis 78 anni e Emma Scarciolla 69 tutti di Gioia del Colle in Puglia dando la possibilità alla scuola di diventare veramente un soggetto promotore di cultura e loro ci hanno offerto questa possibilità nemmeno il distanziamento sociale le mascherine e il gel a profusione gli ha fatto cambiare idea e così Nicola Domenica e Emma hanno presentato i loro elaborati per l'esame di terza media a nove prof dell'istituto comprensivo Carano di Gioia del Colle uno di loro ha scelto proprio il coronavirus insieme alla peste manzoniana come argomento per la sua tesina l'epidemia di coronavirus è stata spesso paragonata alla peste raccontata da Alessandro Manzoni gli altri si sono concentrati sul boom economico degli anni 60 e sull'immigrazione ma la domanda principale è stata perché siete ritornati sui banchi di scuola e ognuno di loro ha spiegato perché da ragazzo ha dovuto fare scelte diverse ma ora è arrivato anche il litofine del diploma con la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan torna domani il calcio giocato dopo oltre tre mesi di stop Luca Licata è rimasto fermo tre mesi domani il calcio riprende e lo fa in grande in campo la Coppa Italia con la più classica delle sfide Juventus-Milan in una semifinale di ritorno nella quale si giocheranno l'accesso alla finalissima di Roma mercoledì prossimo prendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza questo è chiaro noi del Milan siamo sempre stati molto molto attenti abbiamo sempre preso le precauzioni necessarie e siamo sempre stati favorevoli a ripresa del campionato cresce dunque l'attesa per una partita inaugurale che prima del fischio d'inizio sarà preceduta da un minuto di silenzio per commemorare le vittime del coronavirus sabato 13 poi sarà la volta del match tra Napoli e Inter conto alla rovescia anche per la Liga Spagnola seconda grande Lega a ricominciare dopo la Bundesliga tedesca al via il derby di Siviglia riparte il duello fra Barcellona e Real anche lì stadi rigorosamente chiusi come in quasi tutta Europa fa eccezione la Serbia da dove arrivano queste immagini incredibili l'acceso derby tra Stella Rossa e Partizan Belgrado disputatosi con i tifosi sulle tribune ritrovato nel sottotetto di un'abitazione di Tortoreto in provincia di Teramo il dipinto di Mansky rubato il 26 gennaio del 2019 realizzato dall'artista su una porta di sicurezza del teatro Bataclan di Parigi in omaggio alle 130 vittime degli attacchi terroristici del 2015 David Murgia eccola qui era scomparsa un anno fa a gennaio è stata ritrovata dai calabinieri in un casale di campagna abruzzese in provincia di Teramo è la porta del Bataclan su cui l'artista Banksy aveva dipinto un murales in segno di lutto per le vittime dell'attacco terroristico una donna velata dipinta su una delle uscite di sicurezza usate per fuggire durante il concerto finito in tragedia nel 2015 il furto è stato studiato nei minimi dettagli alcuni uomini incappucciati avrebbero usato delle smerigliatrici angolari per tagliare l'opera dalla porta di emergenza che poi avrebbero portato via su un camion per fortuna il graffito risulta intatto l'opera era stata dipinta a fine giugno 2018 e rivendicata dal famoso vride senza volto Banksy mesi dopo il Bataclan ne aveva denunciato la sparizione esprimendo profonda indignazione per questo simbolo di raccoglimento che apparteneva a tutti l'artista senza volto ha un legame molto stretto con l'Italia lo scorso anno scelse come tela la parete di un palazzo di Venezia per realizzare un piccolo profugo che tiene in mano una sorta di torcia per segnalare la sua presenza al mondo sono oltre 96.000 le famiglie che ad oggi hanno usufruito del bonus per acquistare nuovi televisori o decoderi in grado di ricevere i programmi televisivi con i nuovi standard previsti per il 2022 sentiamo Francesco Durante se vorranno ancora guardare la tv circa 18 milioni di famiglie presto dovranno cambiare il proprio televisore o acquistare un decoder per poter ricevere il nuovo formato tecnologico DVB-T2 il digitale terrestre che sarà operativo da giugno 2022 quando le emittenti televisive dovranno sgombrare le attuali frequenze per fare spazio al segnale del 5G il governo ha sanziato oltre 150 milioni di euro per consentire alle fasce sociali con basso reddito l'acquisto di nuovi apparecchi il bonus TV disponibile già dal 18 dicembre scorso ha un valore massimo di 50 euro e potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino all'esaurimento delle risorse stanziate circa 150 milioni di euro finora ne sono stati spesi meno di 5 milioni distribuiti a oltre 96.000 famiglie il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo e per ottenerlo i cittadini dovranno presentare la richiesta di acquistare una TV o un decoder beneficiando del contributo dal sito del ministero dello sviluppo economico è possibile scaricare il modulo della domanda in cui si dichiara di essere residenti in Italia di appartenere a un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già usufruito del bonus e con questo è tutto adesso spazio a Fabio Bolzete e a TGTG grazie per averci seguito arrivederci a presto a presto